Iritec è un'azienda familiare siciliana e ha oltre 40 anni di esperienza nella Smart Irrigation. È un'azienda di produzione manifatturiera e produciamo tubi e raccordi per sistemi di irrigazione a goccia. Ma oltre a produrre facciamo anche progettazione, facciamo impianti di irrigazione in tutto il mondo. Raggiungiamo oltre 140 paesi grazie anche alle nostre filiali produttive e commerciali in diversi continenti. Cosa ci contraddistingue per essere una best managed company? Sicuramente noi offriamo una soluzione che serve per ridurre il consumo di acqua. Siamo focalizzati sulla sostenibilità e questo è sicuramente un nostro punto di forza. Poi abbiamo un importante know-how produttivo, un know-how sulla lavorazione delle materie plastiche. E questo per noi è un importante punto per darci competitività ma anche per sapere come creare prodotti. Noi facciamo tubi e raccordi come crearli nel modo più efficiente. Abbiamo però anche un know-how agronomico in quanto i nostri agronomi e la nostra forza vendita di tipo tecnico colloquia ogni giorno con gli agricoltori e con i professionisti del giardinaggio per poter trovare le soluzioni più idonee alle loro esigenze. Un ultimo elemento direi anche che è la nostra capillarità, la presenza all'estero attraverso le nostre filiali in tutto il mondo. Grazie. 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 Grazie.